5 consigli che ti eviteranno di sbagliare come il 99% degli investitori. Sarà vero? Come sapete io sono diversi anni che mi trovo addentro al mondo degli investimenti e ormai due o tre cosette le ho imparate. Vediamo assieme questi punti e approfondiamoli, ma prima come sempre sigla. Bentornati amici investitori e benvenuti a questo nuovo video. Io sono Daniele, il vostro consulente finanziario di fiducia e bentornati alla nostra rubrica del consulente, rubrica che nasce dall'esperienza nell'incontrare quotidianamente, nel parlare quotidianamente con tantissimi investitori ognuno di quali ha i suoi pregiudizi, ha le sue idee, commette una serie di errori tutte quante cose che ho deciso di racchiudere e riportare, condividere con questa community per diventare tutti assieme delle persone più finanziariamente consapevoli. Questa puntata come vedete è su un nuovo set di sperimentazione fatemi sapere che cosa ne pensate qui sotto con un commento. Non perdiamo tempo e cominciamo subito a parlare un po' di tutti quanti quelli che sono i vari punti da elencare, da conoscere, da comprendere approfonditamente e questo perché una volta che sono propri, ogni decisione che andremo a prendere sarà inevitabilmente influenzata anche da queste nozioni che stiamo apprendendo e ci faranno per quanto possibile evitare di commettere tutta quanta una serie di errori che purtroppo, mi rendo conto, sono molto molto frequenti. Iniziamo subito con il punto numero uno. Non posso non partire da quello che a mio parere è la lezione più importante che tutti quanti gli investitori dovrebbero conoscere, ovvero la diversificazione quando si va ad investire. Diversificare, lo abbiamo già detto tante volte, non è solamente una parola, non è solamente un concetto, è probabilmente l'elemento carne su cui regge un buon portafoglio. E per diversificare non intendo andare ad acquistare 50, 60, 100 titoli diversi ognuno dei quali ci permette di andare ad abbassare la percentuale che un singolo asset dà sull'interno nostro portafoglio. Non parlo di quello. Perché quando si vanno a comprare tantissime cose senza una reale logica che c'è dietro non si va a diversificare, si va a disperdere il capitale. D'altra parte la diversificazione, quella seria, quella sana, non è altro che la ricerca costante di una decorrelazione funzionale per il nostro portafoglio. Ed è importante legare la diversificazione alla decorrelazione perché quando noi andiamo ad acquistare anche due titoli diversi ma che si muovono bene o male allo stesso modo, qual è la diversificazione che realmente stiamo avendo? Altrimenti basterebbe andare a comprare due ETF World e avremmo diversificato del 50% il loro peso ma in realtà si muovono bene o male allo stesso modo e dunque non c'è una vera e propria diversificazione. Al contrario invece andare a selezionare un asset che si muove in maniera opposta magari o comunque in maniera non lineare rispetto all'andamento di un asset che abbiamo già in portafoglio beh questo ci permette di andare a eliminare la grande volatilità alla quale saremmo sposti in un secondo caso. La diversificazione l'abbiamo già visto, si può avere in diversi modi, si può dividere per asset in funzione di quelli che possano essere gli asset utili a noi, abbiamo le azioni, le obbligazioni, gli ETF, i fondi, l'immobiliare, le materie prime, l'oro, le valute eccetera eccetera. Ma può essere anche semplicemente geografica quindi avere una parte in America, una parte nei stati emergenti, una parte in Europa con tutti quanti i singoli stati e questo è uno dei grandi punti su cui pongo l'attenzione quando costruisco i portafogli per i miei clienti. Tipicamente parto proprio dalla diversificazione geografica per andare a vedere come è strutturato il portafoglio. Per poi concludere con la diversificazione settoriale quindi magari selezionare gli stessi asset nello stesso contesto geografico ma che si basano su contesti lavorativi differenti quindi magari prendere un po' dal tecnologico, un po' dal farmaceutico, un po' dall'immobiliare eccetera eccetera. E questo perché come abbiamo già detto i mercati non si muovono tutti all'unisono, dipendono da quella che è il contesto macroeconomico di riferimento che cambia costantemente. Di diversificazione ne abbiamo già parlato, ne abbiamo parlato tante volte ma continua a rimanere una delle lezioni più importanti da dover conoscere che purtroppo le persone non fanno. Punto numero due, selezionare i giusti orizzonti temporali per i corretti obiettivi che ci siamo dati. Se noi abbiamo un determinato obiettivo da voler portare a termine come ad esempio per una persona relativamente giovane magari preparare una pensione privata oppure costruire un capitale che gli dia una seconda entrata continuativa nel corso degli anni sono tutti quanti obiettivi lunghi che ci vogliono degli anni per arrivare a quel punto. E dunque allo stesso modo il nostro portafoglio dovrà essere strutturato per seguire quel medesimo orizzonte temporale. Quando noi abbiamo un determinato orizzonte temporale dobbiamo andarla a rispettare perché conosco tantissime persone veramente è pieno là fuori di persone che hanno degli orizzonti di lungo termine ma poi dopo un mese vogliono vedere i risultati di portafoglio. Non è così che funziona il mondo degli investimenti. Per tutti coloro i quali invece hanno delle necessità più impellenti come il comprare la macchina, il mandare il proprio figlio a scuola, l'acquistare anche magari una vacanza per la famiglia, bene, in quel caso facciamo riferimento a degli orizzonti temporali di breve termine, al massimo massimo di medio termine e quindi il nostro portafoglio dovrà essere mosso in maniera completamente diversa. E lì sì che è più giusto andare a controllare quello che sta facendo il portafoglio. Consiglio numero 3 Ricerca ed educazione. Lo dico sempre ed è una cosa che promuovo ormai da anni. La ricerca costante di informazioni per comprendere quello che sta succedendo nel nostro portafoglio è la cosa più importante probabilmente che ci consente anche di gestire le emozioni e dopo ci arriviamo. Questo perché noi possiamo essere anche i più grandi conoscitori di tutti quanti i libri di teoria finanziaria del mondo ma poi se non cominciamo ad investire e non vediamo nella pratica quello che succede, vediamo che i vari magari grafici così belli e lineari sui libri non si presentano e non si manifestano nella realtà delle cose, ecco c'è una grandissima differenza da dover sottolineare. Ed è il motivo per cui io consiglio a tutti quanti di comprendere quello che succede sui mercati anche se non lo facciamo di professione. Io nel mio piccolo cerco di raccontare quello che succede nel corso della settimana e di riportarlo a tutta quanta la community di modo da poter capire un attimo come si sta muovendo il mercato e per quale motivo i nostri soldi si muovono in un determinato modo. Conoscere tutte le informazioni e incanalarle all'interno di un contesto più ampio non sto parlando ovviamente di una settimana che seguiamo i mercati ma sto parlando di mesi se non di anni che si continua ad analizzare quelle che sono le aziende che abbiamo in portafoglio le notizie economiche i mercati come si stanno muovendo ci permettono di avere una certa conoscenza importante e ci fa evitare molte volte di prendere delle decisioni impulsive che non fanno altro che danneggiare il nostro portafoglio ma attenzione d'altra parte non bisogna andare neanche nella tendenza opposta conosco tantissime persone infatti che guardano giornalmente quello che succede sui mercati ma non riescono a discernere quelle che sono le notizie da dover considerare dai rumori di fondo ne abbiamo già parlato in un altro video e vi consiglio di andarla a recuperare quando andiamo a vedere le notizie economiche dobbiamo sempre ricordare che le notizie che leggiamo sui giornali servono per vendere e tutti quanti gli allarmismi molto spesso non sono altro che notizie lasciate al vento per generare dei click e guadagnare qualche euro in più con il tempo si apprende la differenza fra vera notizia da dover considerare e mero e proprio rumori di fondo la crisi del settore bancario che esploderà l'economia americana e globale il mondo si sta dedolarificando e uscirà la nuova moneta che cambierà tutto quanto dall'oggi al domani in tutte quanta una serie di cose della quale siamo costantemente inondati dalla narrativa globale e quindi è importantissimo studiare per conoscere ma evitare di farsi sempre prendere dal panico dalle notizie perché poi dopo siamo sempre tutti qui e continuiamo giornalmente a vedere quello che succede e ci colleghiamo direttamente al consiglio numero 4 gestisci le emozioni non c'è niente da fare è una cosa che si sa e quando lo si subisce sulla propria pelle lo si impara le emozioni negli investimenti sono negative sono deleterie perché ci fanno commettere una serie di decisioni che non sono dettate dalla razionalità cosa che l'investitore consapevole dovrebbe ricercare il più possibile le informazioni che riceviamo magari in dei periodi di alta volatilità come il passato 2022 i primi mesi del 2023 la fine del 2021 magari tutta una serie di momenti che possono farci entrare in un panico e ci fanno dire no basta voglio vendere tutto quante persone hanno venduto al crollo durante il covid e poi ci sono mangiati tutta quanta la risalita che c'è stata l'emotività è sbagliata e non c'è nulla da fare sia in acquisto che in vendita e il mio consiglio per quanto semplice possa essere quando ci troviamo in dei momenti di panico è fermati rifletti un attimo prenditi mezza giornata comincia un attimino a fare mente locale ad analizzare quello che sta succedendo sui grafici con quello che succede sull'economia di riferimento e poi in un secondo momento prendi la decisione mi ringrazierai e infine ultimo punto considera i costi e le commissioni che vai a pagare consiglio sinceramente quando si analizzano gli investimenti quando si analizza quello che bisogna mettere in portafoglio di andare a considerare quello che è un elemento che purtroppo molto spesso viene trascurato ossia i costi le commissioni di compravendita di gestione di performance di ingresso per quanto possibile io consiglio di andare ad ottimizzare al massimo questi costi magari utilizzando degli strumenti economici come gli stessi ETF a discapito dei classici fondi di investimento ma ed è qui che arriva il grande ma perché altrimenti si guarda solamente una faccia della medaglia bisogna andare a considerare i costi giustamente e non bisogna cercare solamente gli strumenti dei costi più economici perché altrimenti si perde una parte del discorso se io infatti magari vado a prendere un determinato ETF che mi porta a un determinato risultato ma poi mi trovo di fronte a un fondo di investimento magari che costa anche il doppio rispetto all'ETF ma i cui rendimenti sono abbondantemente giustificati a livello storico ovviamente non solamente un anno non ci facciamo niente con un anno di storico ma almeno 5-10 anni di storico bisogna andare a considerare che vanno a sopraperformare l'ETF di riferimento allora io sono ben felice di andare a pagare quei costi in più perché sono giustificati il costo come sempre non è mai troppo alto troppo basso perché dipende dal risultato che va a portare era un piccolo accenno che però ci tenevo di riportare all'interno di questo video perché altrimenti sembra che uno strumento più economico è meglio è assolutamente no anzi molto spesso l'economicità di uno strumento si lega a doppio filo con la sua scarsa efficienza ebbene questi erano i 5 consigli che ci permettono se considerati di evitare di fare tutta quanta una serie di errori che purtroppo le persone fanno quotidianamente io spero come sempre di avervi aiutato a diventare delle persone più finanziariamente consapevoli se avete altri consigli da lasciare potete riportarli qui sotto nella sezione commenti e noi come sempre ci vediamo a un prossimo video ciao a tutti ragazzi ciao a tutti Grazie a tutti.